Benvenuti su Whispers of Wisdom. Oggi ci addentreremo in un viaggio di trasformazione interiore, un percorso che può rivoluzionare la vostra vita, il potere dell'amore verso se stessi. Immaginate un momento in cui iniziate a lavorare su di voi, a prendervi cura della vostra anima e a coltivare il profondo rispetto che meritate. È in quel momento che tutto può cambiare. La vostra vita, le vostre relazioni e la vostra visione del mondo possono subire un'incredibile metamorfosi. Quando decidete di volervi bene, iniziate a riscrivere la storia della vostra esistenza e il potere che risiede dentro di voi diventa palpabile e inarrestabile. Ogni volta che affrontate la vostra interiorità, scoprite che ci sono risorse immense, un giardino fiorente di potenziale e opportunità pronte per essere coltivate. Questo giardino è composto non solo di esperienze passate, ma anche di sogni, aspirazioni e la vostra autentica essenza. Il vero viaggio non è solo una questione di crescita personale, ma di riconoscere che, indipendentemente da ciò che accade all'esterno, il vostro io interiore rimane costante e affidabile. Gli altri possono andare e venire, ma l'unica compagnia che avete veramente è quella di voi stessi. Prendetevi un momento per riflettere sull'importanza di questo legame. Avete la possibilità di essere il giardiniere della vostra anima, di nutrire i semi dell'amore e della positività, e di fare in modo che il vostro giardino interiore fiorisca. È un viaggio che richiede coraggio, ma questo coraggio non è altro che il riconoscere il valore che già risiede dentro di voi. Abbracciare il cambiamento, prendersi per mano e nutrire la propria essenza sono tutte pratiche essenziali per chi desidera migliorare se stesso e vivere una vita autentica e appagante. Ricordate che ogni giorno rappresenta un'opportunità per iniziare a scrivere una nuova pagina della vostra vita, una pagina che riflette chi siete veramente e chi desiderate diventare. Questa consapevolezza è fondamentale, perché ogni scelta che fate in questo viaggio è un atto d'amore verso voi stessi, un modo per affermare che siete degni di felicità, rispetto e pienezza. Siamo qui per esplorare insieme queste idee e per incoraggiarvi a diventare la versione migliore di voi stessi. Grazie per essere qui con noi. Se sentite che questo messaggio risuona con voi, vi invitiamo a iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un like per supportarci. Il potere della consapevolezza. La consapevolezza rappresenta il primo passo cruciale nel viaggio verso la trasformazione personale. È un invito a fermarsi e ad osservare, a scoprire il mondo interiore che ognuno di noi porta dentro di sé. Spesso siamo così impegnati a vivere le nostre vite, a rincorrere obiettivi e a soddisfare aspettative esterne, che dimentichiamo di prestare attenzione a ciò che accade dentro di noi. La consapevolezza ci offre l'opportunità di riscoprire la nostra essenza, di capire le emozioni e i pensieri che ci guidano e di costruire un legame profondo con noi stessi. È come accendere una luce in una stanza buia, permettendo di vedere chiaramente le ombre e le luci che coesistono nel nostro animo. Iniziare a coltivare la consapevolezza significa dedicare del tempo a noi stessi, a praticare la riflessione e la meditazione. Questi momenti di introspezione ci consentono di comprendere il nostro stato d'animo, di riconoscere le emozioni che ci attraversano e di esplorare i nostri desideri più autentici. Non è un processo facile, richiede coraggio, vulnerabilità e la volontà di affrontare anche le parti più scomode di noi stessi. Ma è proprio in questo spazio di vulnerabilità che possiamo trovare la vera forza. Quando ci permettiamo di sentirci, di ascoltarci e di accettarci, ci apriamo a una nuova dimensione di libertà e autenticità. La consapevolezza è il fondamento su cui costruiamo una vita piena e appagante. Essa ci aiuta a riconoscere i pensieri autolimitanti e le credenze negative che spesso ci intrappolano in schemi di comportamento dannosi. Non siamo solo il risultato delle esperienze passate, ma abbiamo il potere di scegliere come reagire, di decidere come vogliamo vivere. Con ogni atto di consapevolezza, cominciamo a riscrivere la narrativa della nostra vita, sostituendo le storie di paura e insicurezza con racconti di amore, resilienza e determinazione. È un viaggio che richiede tempo e pratica, ma ogni piccolo passo è un seme piantato nel fertile terreno della nostra crescita personale. In questo processo, è fondamentale sviluppare un atteggiamento di gentilezza verso se stessi. La consapevolezza non deve essere confusa con l'autocritica, anzi, è l'esatto opposto. È un invito a osservare senza giudizio, a essere compassionevoli nei confronti delle proprie debolezze e a riconoscere il proprio valore intrinseco. Imparare a trattare noi stessi con la stessa delicatezza e cura che riserviamo agli altri è un atto rivoluzionario. Quando iniziamo a nutrire il nostro giardino interiore con pensieri di amore e accettazione, iniziamo a vedere i cambiamenti nel nostro mondo esterno. Attraverso la consapevolezza, possiamo anche migliorare le nostre relazioni. Quando diventiamo più presenti e consapevoli, iniziamo a interagire con gli altri in modo più autentico e profondo. La comunicazione si arricchisce, le connessioni si intensificano e la comprensione reciproca cresce. È un ciclo virtuoso. Più siamo consapevoli di noi stessi, più siamo in grado di comprendere e accettare gli altri, creando relazioni basate sulla verità e sulla sincerità. Il potere della consapevolezza ci permette di affrontare le sfide della vita con una nuova prospettiva. Quando siamo presenti e consapevoli, possiamo gestire lo stress e le difficoltà con maggiore lucidità. Le situazioni difficili non ci scoraggiano più. Invece, le vediamo come opportunità per crescere e imparare. La consapevolezza diventa quindi uno strumento essenziale per navigare nel mare tempestoso della vita, aiutandoci a mantenere il nostro equilibrio anche nei momenti più turbolenti. Il potere della consapevolezza è il primo passo per iniziare a lavorare su noi stessi e ad avvicinarci all'amore che meritiamo. È un viaggio che richiede dedizione e pazienza, ma i frutti di questo sforzo sono incommensurabili. Con la consapevolezza, possiamo riscoprire chi siamo veramente e iniziare a vivere una vita piena di significato, autenticità e amore. La vera bellezza di questo percorso è che non è mai troppo tardi per iniziare. Ogni giorno rappresenta una nuova opportunità per immergersi nella propria interiorità e per abbracciare il meraviglioso viaggio verso il miglioramento di sé. L'arte di prendersi cura di sé. Prendersi cura di sé non è semplicemente una pratica occasionale, ma un impegno costante verso il benessere e la crescita personale. Quando ci impegniamo a nutrire il nostro corpo, la nostra mente e la nostra anima, stiamo costruendo una fondazione solida su cui edificare una vita ricca e soddisfacente. L'arte di prendersi cura di sé va ben oltre il concetto di relax o di svago. È un atto di amore verso noi stessi che ci consente di affrontare le sfide quotidiane con rinnovata energia e positività. In questo contesto, la cura di sé si manifesta attraverso diverse dimensioni. Innanzitutto, esiste la dimensione fisica, che coinvolge il modo in cui trattiamo il nostro corpo. Nutrire il nostro organismo con cibi sani, praticare regolarmente attività fisica e garantire un adeguato riposo sono tutte pratiche fondamentali. Ogni volta che scegliamo di prendersi cura del nostro corpo, stiamo inviando un messaggio potente a noi stessi. Io merito di stare bene. Questi piccoli gesti quotidiani di amore possono sembrare insignificanti, ma accumulandosi nel tempo, creano un impatto profondo e duraturo. Ogni volta che ci prendiamo il tempo per preparare un pasto nutriente o per muovere il corpo, stiamo alimentando non solo la nostra forza fisica, ma anche il nostro spirito. La dimensione mentale della cura di sé è altrettanto cruciale. Essa implica la consapevolezza di ciò che permettiamo nella nostra mente. Le nostre menti possono essere il nostro miglior alleato o il nostro più grande nemico. Imparare a riconoscere i pensieri tossici e sostituirli con affermazioni positive è un atto di grande coraggio. Ogni volta che ci permettiamo di pensare in modo costruttivo, stiamo creando un ambiente interno che incoraggia la crescita e la resilienza. È un viaggio che richiede disciplina e impegno, ma il potere di trasformare il modo in cui pensiamo può aprire porte inimmaginabili nella nostra vita. Inoltre, la dimensione emozionale della cura di sé ci invita a riconoscere e accettare le nostre emozioni. Non dobbiamo temere di sentirci tristi, ansiosi o arrabbiati. Sono tutte esperienze umane naturali. Prendersi cura di sé significa anche permettersi di sentire e di elaborare queste emozioni in modo sano, piuttosto che reprimerle. Creare uno spazio sicuro per esprimere ciò che proviamo, che si tratti di scrivere un diario, di parlare con un amico fidato o di praticare la meditazione, è fondamentale per il nostro equilibrio emotivo. Ogni volta che affrontiamo le nostre emozioni, stiamo facendo un passo verso una maggiore comprensione di noi stessi e del mondo che ci circonda. La dimensione spirituale della cura di sé è forse la più profonda. Essa ci invita a connetterci con qualcosa di più grande di noi, che sia la natura, una forza universale o la nostra stessa essenza. Prendersi cura della propria spiritualità significa anche dedicare del tempo alla riflessione, alla meditazione o alla preghiera, a seconda delle proprie inclinazioni. Questi momenti di connessione ci permettono di sentirci radicati e centrati, offrendoci una prospettiva più ampia sulla vita. È in questo spazio che possiamo trovare il nostro scopo e la nostra passione, nutrendo l'anima con ciò che veramente ci arricchisce. Il potere di prendersi cura di sé si riflette anche nelle relazioni che coltiviamo. Quando ci amiamo e ci rispettiamo, iniziamo a trarre persone che condividono questi valori. La qualità delle nostre interazioni migliora e le relazioni si arricchiscono di autenticità e significato. Impariamo a stabilire confini sani, a dire di no quando necessario e a circondarci di persone che ci sollevano e ci ispirano. Ogni relazione diventa un'opportunità per crescere e per espandere il nostro universo. In questo processo di cura di sé, è fondamentale ricordare che non esiste una soluzione unica per tutti. Ognuno di noi è un individuo unico, con desideri e necessità personali. È quindi essenziale esplorare e scoprire cosa funziona meglio per noi. Potrebbe significare dedicare più tempo alla creatività, esplorare nuove passioni o semplicemente concedersi dei momenti di tranquillità per ricaricarsi. Ogni gesto, ogni decisione è un passo verso la creazione di una vita più autentica e soddisfacente. La cura di sé è un viaggio continuo, una pratica quotidiana che richiede attenzione e intenzione. Iniziare a dedicare tempo e spazio a questo aspetto della vita non significa solo migliorare il proprio benessere, ma anche permettere a noi stessi di fiorire. Ogni volta che ci prendiamo cura di noi, stiamo scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia, un capitolo ricco di amore, accettazione e gratitudine. La bellezza di questo viaggio risiede nella consapevolezza che non è mai troppo tardi per iniziare. Ogni giorno è un'opportunità per riscoprire e rinvigorire il nostro giardino interiore, permettendo alla nostra autentica essenza di brillare e di vivere a pieno. Riscrivere le pagine della tua vita. Nel momento in cui decidiamo di intraprendere il cammino verso un miglioramento autentico, iniziamo anche a riscrivere le pagine della nostra vita. Ogni giorno è un'opportunità per riappropriarci della nostra storia, per trasformare il passato in un terreno fertile per il nostro futuro. Riscrivere le pagine della propria vita non significa cancellare ciò che è stato, ma piuttosto scegliere di dare un nuovo significato alle esperienze che abbiamo vissuto. Significa permettere alle cicatrici di diventare simboli di resilienza piuttosto che segni di vulnerabilità. Immaginate di avere un quaderno davanti a voi. Ogni pagina rappresenta un capitolo della vostra esistenza. Alcuni di questi capitoli possono essere segnati da momenti difficili, scelte sbagliate o relazioni tossiche. È facile lasciarsi sopraffare da questi ricordi e sentirsi intrappolati in una narrativa negativa. Ma ecco la verità. Abbiamo il potere di rivedere e reinterpretare queste storie. Ogni esperienza, anche la più dolorosa, contiene in sé la semenza di una lezione preziosa, un insegnamento che può guidarci verso una maggiore saggezza e comprensione. Quando iniziamo a riscrivere le nostre pagine, è essenziale farlo con un atteggiamento di gratitudine. Anche le sfide più ardue possono insegnarci qualcosa di significativo su noi stessi. Potremmo scoprire, ad esempio, che le difficoltà ci hanno reso più forti, più empatici o più resilienti. Invece di considerare il nostro passato come un fardello, possiamo vederlo come un maestro, un compagno di viaggio che ci ha aiutato a diventare chi siamo oggi. È questo cambio di prospettiva che ci consente di creare un futuro luminoso e promettente. Il processo di riscrittura è anche un atto di autoaffermazione. Significa decidere consapevolmente di abbandonare le etichette che ci sono state imposte, quelle che ci hanno tenuto prigionieri in un'immagine che non ci appartiene. Ogni volta che affermiamo il nostro valore e la nostra autenticità, stiamo scrivendo una nuova pagina. Una pagina in cui siamo i protagonisti della nostra storia, non solo dei semplici osservatori. Questo atto di autoaffermazione richiede coraggio, ma è essenziale per vivere una vita piena e significativa. Quando ci dedichiamo a questo lavoro di riscrittura, iniziamo anche a scoprire nuove passioni e aspirazioni. Le pagine che scriviamo non devono limitarsi a rievocare ciò che abbiamo già vissuto. Possono anche esplorare ciò che desideriamo diventare. In questo modo, possiamo iniziare a definire i nostri sogni e le nostre ambizioni, a identificarci con le cose che ci ispirano veramente. Questa fase del processo è un viaggio di scoperta, un'opportunità per abbracciare chi siamo e per perseguire ciò che ci rende veramente felici. È importante ricordare che riscrivere le pagine della propria vita non è un evento unico, ma un processo continuo. Ogni giorno, ogni scelta, ogni pensiero ha il potere di influenzare la nostra narrativa. Ciò che decidiamo di fare oggi avrà un impatto sul nostro domani. Pertanto, è fondamentale essere intenzionali nelle nostre azioni e nei nostri pensieri. Ogni volta che scegliamo di agire in accordo con i nostri valori e i nostri sogni, stiamo scrivendo pagine piene di significato, pagine che raccontano una storia di determinazione, crescita e amore. Un altro aspetto importante di questo viaggio è il supporto delle persone che ci circondano. Le relazioni significative possono fungere da fonte di ispirazione e motivazione. Circondarsi di individui che credono in noi e nel nostro potenziale ci incoraggia a perseguire i nostri sogni e a riscrivere le nostre storie. Allo stesso tempo, dobbiamo essere disposti a lasciare andare le relazioni tossiche che ci trattengono nel passato. Ogni volta che liberiamo spazio nella nostra vita per le connessioni autentiche, creiamo un ambiente fertile per la nostra crescita personale. In definitiva, il potere di riscrivere le pagine della nostra vita risiede nella consapevolezza che siamo noi gli autori della nostra storia. Non importa quali siano stati gli eventi del passato, abbiamo sempre la possibilità di scegliere come affrontare il presente e come immaginare il futuro. Ogni giorno, possiamo iniziare un nuovo capitolo, con una penna in mano e la determinazione nel cuore. Riscrivere le pagine della nostra vita è un viaggio trasformativo che ci invita a riflettere, a guarire e a prosperare. È un invito a vivere pienamente, con autenticità e coraggio, abbracciando ogni singolo istante come un'opportunità per creare la vita che desideriamo e meritiamo. Prendersi per mano. Prendersi per mano, in questo viaggio di crescita personale e di amore verso se stessi, rappresenta un atto di gentilezza e cura che va oltre il semplice gesto fisico. Si tratta di un simbolo potente di connessione interiore, di un abbraccio caloroso e profondo che offriamo a noi stessi mentre esploriamo le sfide e le opportunità della vita. Quando decidiamo di abbracciare la nostra essenza e di camminare al nostro fianco, iniziamo a costruire un legame intimo e sincero con la nostra anima, un legame che diventa il fondamento su cui poggiano tutte le altre relazioni. Immagina di trovarsi di fronte a uno specchio, guardando negli occhi la persona riflessa. Questo specchio non solo riflette il tuo aspetto fisico, ma rappresenta anche tutte le tue esperienze, le tue gioie e le tue sofferenze. Prendersi per mano significa riconoscere ogni aspetto di te stesso, anche quelli che possono sembrare scomodi o inaccettabili. È un atto di accettazione che ci permette di abbracciare le nostre imperfezioni, di fare pace con le parti di noi che abbiamo cercato di nascondere o negare. È solo accettando la totalità del nostro essere che possiamo realmente iniziare a crescere. Quando ci prendiamo per mano, ci diamo il permesso di essere vulnerabili, di esprimere le nostre emozioni senza paura di essere giudicati. In questo spazio di autenticità, possiamo permetterci di piangere, di gioire, di arrabbiarci e di ridere. Queste emozioni sono una parte essenziale del nostro viaggio e il loro riconoscimento è fondamentale per la nostra crescita. Non c'è nulla di sbagliato nel sentirsi fragili o insicuri. Anzi, è in questi momenti che possiamo scoprire la nostra vera forza. La forza non sta nell'assenza di paura, ma nella capacità di affrontarla e di camminare insieme a essa, come compagni di viaggio. Prendersi per mano richiede anche una dose di coraggio. È un invito a mettersi in gioco, a sfidare le convinzioni limitanti che ci hanno bloccato in passato. Quando iniziamo a credere in noi stessi e nel nostro valore intrinseco, tutto cambia. Le parole che ci diciamo ogni giorno, i pensieri che coltiviamo, possono diventare un potente strumento di trasformazione. Iniziamo a sostituire i messaggi negativi con affermazioni positive, creando un dialogo interno che celebra la nostra unicità e il nostro potenziale. Questo cambiamento interiore si riflette inevitabilmente all'esterno, influenzando le nostre relazioni e il modo in cui ci relazioniamo con il mondo. Il viaggio di prendersi per mano è anche un percorso di scoperta. Mentre ci avventuriamo in questo cammino, possiamo esplorare le nostre passioni e i nostri sogni più autentici. Abbracciando chi siamo, ci diamo il permesso di sperimentare e di osare. Possiamo scoprire talenti nascosti, interessi dimenticati e nuove aspirazioni. Ogni passo in avanti diventa una celebrazione della nostra vita, una dichiarazione che ci permette di vivere pienamente e con entusiasmo. In questo processo è fondamentale nutrire la nostra mente e il nostro corpo. Prendersi per mano significa anche prendersi cura di sé, prestando attenzione a ciò di cui abbiamo bisogno per sentirci bene. Che si tratti di praticare la meditazione, di fare attività fisica, di alimentarsi in modo sano o di concedersi dei momenti di relax, ogni gesto di cura è un passo verso l'amore per sé stessi. Quando ci prendiamo cura di noi stessi, mettiamo le basi per relazioni più sane e significative con gli altri. Le persone che ci circondano avvertono la nostra energia e, in questo modo, siamo in grado di attrarre verso di noi connessioni autentiche e arricchenti. Prendersi per mano significa anche affrontare il cambiamento. La vita è in continua evoluzione e anche noi siamo chiamati a evolvere. A volte, questo implica il lasciare andare ciò che non ci serve più, liberandoci di vecchie abitudini e convinzioni che ci limitano. Questo processo può essere difficile, ma è anche liberatorio. Ogni volta che facciamo spazio nel nostro cuore e nella nostra mente, possiamo accogliere nuove esperienze e opportunità. Prendersi per mano è un atto di amore e compassione verso se stessi. Significa ricordarci che siamo meritevoli di tutto il bene che la vita ha da offrire. È un invito a celebrarsi, a riconoscere i propri successi, anche i più piccoli, e a trattarsi con gentilezza in ogni fase del viaggio. In questo modo, possiamo costruire una vita che riflette veramente chi siamo e ciò che desideriamo essere. In questo viaggio di autoconoscenza e amore per se stessi, prendersi per mano è un gesto che cambia tutto. È il primo passo verso una vita più autentica, felice e realizzata. Un passo che ci guida verso la realizzazione del nostro potenziale e delle nostre aspirazioni più profonde. Prenditi per mano e inizia a camminare verso la tua verità. Riscrivere le pagine della tua vita. Riscrivere le pagine della propria vita è un atto di coraggio e determinazione, un processo che implica una profonda riflessione e un impegno costante verso il cambiamento. Immagina di avere tra le mani un libro, un volume che racconta la tua storia fino a questo momento. Ogni pagina è intrisa di esperienze, sfide, gioie e dolori, tutte parte di un percorso unico e prezioso. Ma ora hai l'opportunità di prendere una penna e, con una consapevolezza rinnovata, iniziare a riscrivere il tuo racconto. Il primo passo in questo viaggio di riscrittura è il riconoscimento. È fondamentale prendere atto di ciò che è stato, non per giudicarsi o sentirsi in colpa, ma per comprendere e accettare le scelte fatte. Ogni errore, ogni fallimento è una lezione che ci ha reso più forti e più saggi. Quando iniziamo a vedere le nostre esperienze passate come strumenti di crescita, possiamo liberare la nostra mente da pesi emotivi che ci trattengono. Questa libertà ci permette di scrivere con chiarezza e intenzione, sapendo che il passato non definisce il nostro futuro. Riscrivere la propria vita significa anche abbracciare la propria autenticità. Molti di noi hanno vissuto secondo le aspettative degli altri, conformandosi a ideali che non rispecchiano la nostra vera essenza. È giunto il momento di liberarsi da queste catene e di esprimere chi siamo veramente. Questo processo può essere spaventoso, perché comporta il rischio di deludere qualcuno o di uscire dalla propria zona di comfort. Tuttavia, quando iniziamo a scrivere le pagine della nostra vita secondo i nostri desideri e valori, ci liberiamo dal peso dell'approvazione esterna. La vera libertà risiede nell'essere fedeli a noi stessi. Per riscrivere le pagine della propria vita, è fondamentale anche stabilire una visione chiara del futuro. Cosa vuoi veramente? Quali sono i tuoi sogni e le tue aspirazioni? Prenditi del tempo per riflettere su ciò che ti appassiona, ciò che ti fa battere il cuore. Questa visione diventa la tua bussola, guidando attraverso le sfide quotidiane e mantenendoti concentrato su ciò che è veramente importante. Scrivi la tua nuova narrativa, non come un elenco di desideri, ma come una storia che già stai vivendo. Immagina il tuo futuro in modo vivente, descrivendo i dettagli, le emozioni e le esperienze che vuoi vivere. Questo esercizio non solo stimola la tua immaginazione, ma inizia anche a materializzare la tua realtà. Un altro aspetto cruciale di questo processo è la volontà di affrontare le paure. Quando ci proponiamo di cambiare e di riscrivere la nostra vita, è naturale sentirsi sopraffatti da ansie e insicurezze. La paura del fallimento, il timore di non essere all'altezza o di fare scelte sbagliate possono diventare ostacoli significativi. Tuttavia, è importante ricordare che la crescita avviene al di fuori della nostra zona di comfort. Ogni volta che scegli di affrontare una paura, che sia piccola o grande, stai scrivendo una nuova pagina di coraggio e resilienza. Abbraccia queste sfide, poiché sono opportunità per dimostrare a te stesso di cosa sei capace. Ogni piccolo passo compiuto con determinazione ti avvicina sempre di più alla vita che vuoi. Riscrivere le pagine della propria vita richiede anche una profonda pratica di autocompassione. È essenziale trattare se stessi con gentilezza mentre si naviga nel processo di cambiamento. Invece di criticarti per i fallimenti passati o per i sogni non realizzati, impara a riconoscere il tuo coraggio e la tua determinazione. Ogni giorno è un'opportunità per migliorare e progredire e ogni errore è una lezione da abbracciare. Sì il tuo miglior alleato, parlati con amore e incoraggiamento. La compassione verso se stessi crea un ambiente fertile per la crescita e la trasformazione. Un altro aspetto fondamentale di questo processo è circondarsi di energia positiva. Le persone con cui scegliamo di condividere il nostro cammino possono influenzare profondamente il nostro stato d'animo e la nostra motivazione. Circondati di individui che ti ispirano, che condividono la tua visione di crescita e che ti sostengono nelle sfide. Costruire una rete di supporto ti aiuterà a mantenere viva la tua determinazione e a celebrare i tuoi successi. Non dimenticare che ognuno di noi ha il potere di essere fonte di ispirazione per gli altri. Condividere il tuo viaggio può incoraggiare qualcuno a intraprendere il proprio. Il processo di riscrittura non si limita a cambiare il contenuto delle pagine. Si tratta anche di cambiare il modo in cui percepiamo il viaggio. Abbraccia ogni momento, sia esso di gioia o di difficoltà, come parte integrante della tua storia. Ogni capitolo ha un valore unico e contribuisce alla ricchezza della tua esperienza. Con il tempo, imparerai a vedere la bellezza nei momenti di crescita e nel superamento delle sfide, scoprendo che ogni passo, anche quelli più difficili, ha un significato profondo e un valore inestimabile. Riscrivere le pagine della tua vita è un viaggio continuo e dinamico. Ogni giorno offre l'opportunità di aggiungere nuove parole, di cambiare direzione e di esplorare nuove possibilità. Abbraccia questo processo con il cuore aperto e la mente libera. La tua storia è unica e hai il potere di scriverla nel modo che vuoi. Non esiste una scadenza per la tua crescita. Ogni istante è un nuovo inizio. E mentre scrivi, ricorda che il potere di creare la vita che vuoi è sempre nelle tue mani. Arriviamo così alla fine di questo viaggio, un cammino che ci ha portato a esplorare il potere di lavorare su noi stessi e di riscrivere la nostra vita. Ogni passo che abbiamo compiuto insieme ha rivelato l'importanza di prendersi cura del proprio giardino interiore, di abbracciare l'autenticità e di affrontare le sfide con coraggio e determinazione. Ciò che abbiamo scoperto è che, quando scegliamo di amarci e di prenderci per mano, non solo trasformiamo noi stessi, ma plasmiamo anche la realtà che ci circonda. Nel processo di riscrittura della nostra storia, abbiamo imparato a riconoscere il valore delle nostre esperienze, anche quelle più difficili, e a utilizzare ogni lezione come un mattone per costruire un futuro migliore. La vera magia avviene quando iniziamo a vedere noi stessi non come vittime delle circostanze, ma come gli architetti della nostra esistenza. Ogni giorno è un'opportunità per scrivere nuove pagine, per disegnare il nostro destino e per vivere in modo autentico, allineato con i nostri desideri più profondi. Mentre chiudiamo questo capitolo, ti invitiamo a riflettere su ciò che hai imparato e su come puoi applicare queste preziose intuizioni nella tua vita quotidiana. Ricorda che la trasformazione richiede pazienza e amore verso se stessi. Non temere di sognare in grande, di abbracciare il cambiamento e di riscrivere la tua storia con coraggio e determinazione. Ogni piccolo passo che fai verso il miglioramento personale è un passo verso una vita più ricca, piena di significato e soddisfazione. E così, con la tua penna in mano e il cuore aperto, continua a scrivere la tua storia. Non dimenticare mai che sei il protagonista della tua vita e che ogni giorno hai la possibilità di creare un racconto straordinario, pieno di avventure, sfide e successi. Questo è solo l'inizio di un viaggio emozionante verso la realizzazione del tuo vero potenziale. Ti ringraziamo per aver condiviso con noi questo momento. Se hai trovato valore in queste parole, ti invitiamo a continuare a seguire i nostri contenuti su Whispers of Wisdom. Iscriviti al canale, attiva la campanellina e lascia un like. Commenta e condividi i tuoi pensieri e le tue esperienze per supportarci e per ispirare anche altri a intraprendere questo meraviglioso viaggio di crescita personale. La tua voce può fare la differenza e insieme possiamo creare una comunità di persone che si sostengono e si ispirano a vicenda nel percorso verso la trasformazione e l'autenticità.